Ma quale consapevolezza devo chiedere? Rav, la consapevolezza del Boreh, che tutto ciò che una persona sente viene dal Boreh. Ed è così che una persona costantemente si sforza affinché il creatore si riveli e la persona sia in grado di vederlo in una vera maniera. Perché il Boreh è nel punto più alto di tutti e non c'è nessun altro al di sopra di lui. Dunque il Boreh si abbassa per dare alla persona un posto dove sforzarsi.